Musica Finizio questa sera a San Cipriano di Aversa, ci parli dell'ultimo album, Buona Luna Buona Luna è un augurio che stasera porterò a tutti gli abitanti di San Cipriano d'Aversa e devo dire che per me è bello ritornare qui perché mancavo da tanti anni oggi con un album nuovo, con un album da un titolo di buon augurio per tutti e che cosa posso dire? Viva l'amore, viva le canzoni, viva la musica Cosa c'è nel futuro di Gigi Finizio? Sicuramente musica a non finire, incontro con il pubblico è fondamentale quindi uno mira sempre al rapporto con il pubblico quindi nel futuro vorrei sempre di più ampliare questo tipo di rapporto Un ultimo saluto agli amici di Voce Nuova Grazie agli amici di Voce Nuova, una voce oramai già vecchia, conosciuta Gigi Finizio, ciao Grazie agli amici di Voce Nuova Grazie agli amici di Voce Nuova Grazie agli amici di Voce Nuova